Secondo i dati Istat 2021 del censimento permanente della popolazione senza fissa dimora sono 4.450 in Toscana le persone iscritte in anagrafe presso la residenza fittizia o presso l'indirizzo di un'associazione. Il 68,2% sono uomini, il 31,8% donne. Firenze è la provincia con la maggiore concentrazione seguita da Livorno e Pisa. Sfuggono però a questa indagine le persone che si trovano in una condizione di fragilità che intreccia il disagio abitativo con il disagio sociale, propriamente definite persone senza dimora. I numeri effettivi sono quindi certamente più alti. Dei percorsi migliori per garantire il diritto alla salute e all'abitazione ai senza fissa dimora si è parlato in un convegno organizzato dalla Regione all'Istituto degli Innocenti. È servito anche a un esame degli strumenti normativi attualmente disponibili su questo tema a partire dal progetto Rete regionale per l'inclusione delle persone senza dimora attivo dal 2017. A oggi oltre 4.000 persone sono risultate beneficiarie del progetto nella distribuzione dei beni di prima necessità. Oltre 800 hanno usufruito di servizi di sportello, segretariato sociale e accompagnamento e oltre 600 sono state prese in carico in relazione alla situazione di esclusione abitativa.